Questa mattina al San Camillo Forlanini inaugurato un posto di polizia nell'area del pronto soccorso. Antonio Scopettuolo. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il nuovo posto di polizia all'ospedale San Camillo Forlanini di Roma è uno degli obiettivi insieme al sistema di videosorveglianza di Regione e Ministero dell'Interno per dare maggiore sicurezza a chi frequenta il pronto soccorso. Per comprendere la portata del fenomeno di aggressione e violenze nei confronti del personale sanitario bisogna fare riferimento ai dati dell'ospedale. 960 interventi, 80 al mese che la polizia solo al San Camillo ha eseguito tra appiantonamenti e pronto interventi dal luglio 2022 a quello 2023. Il governo ha aumentato da 126 a 189 i presidi di polizia in tutta Italia. C'era il doveroso riguardo alla protezione degli operatori sanitari che fanno una professione che dobbiamo tutelare ma è anche nostro interesse essere presenti in forza qui e lo faremo con questo programma del governo di progressivo rafforzamento è anche nostro interesse perché qui si concentrano alcuni problemi di carattere sociale che hanno molto a che fare con il nostro interesse alla prevenzione. Un buon punto di partenza dice il Presidente della Regione, Rocca. Questo è un segnale importante, avevamo preso un impegno durante la campagna elettorale di rafforzare e portare ad H24 la presenza in sé ospedali romani della polizia H24 è sicuramente un buon punto di partenza. Adesso bisogna concentrarsi sul perché aumentano in questa maniera gli episodi di violenza.